Tutta la serie Coupé disegnata da Gio Colombo fu concepita inizialmente come una variante della famiglia Spider, figlio dello stesso design, di cui conformava la base e lo stelo. Il semplice e ingegnoso meccanismo che collega la tige alla testa permette di orientare il fascio luminoso in diverse direzioni, spostando la calotta in alto, in basso, lateralmente e sostanzialmente portando la luce là dove serve. Coupé ha ottenuto nel 1968 l'International Design Award dell'American Institute of Ventura Design a Chicago, fa parte della collezione permanenta del MoMA di New York e del New Sam's Flung Museum di Monaco di Mauriera. Disponibile in due varianti, con calotta semicilindrica o semisferica, la Coupé è stata declinata negli anni in diversi modelli, dalla storica lampada da tavola ai modelli da terra e da parete, diventando una delle collezioni più conosciute ed apprezzate di luce.